Si sono registrati nella cittadina della provincia di Salerno, Sala Consilina, ancora dei piccoli casi inerenti al contagio da coronavirus. Il primo è un vero e proprio caso di positività. Si tratta di una parente di una persona già contagiata e guarita. Inoltre, un'altra anziana, ospite dell'Istituto Juventus di Sala Consilina, contagiata, poi guarita, è risultata nuovamente positiva al tampone. Una ricaduta insomma per la signora anziana. Dopo i dovuti controlli e verifiche, entrambe sono in isolamento. Comunque, in tutta la campagna i casi sono davvero pochissimi, molto vicini allo zero assoluto. La vicina regione Basilicata ha fatto registrare invece nuovamente zero casi, dopo l'unico di ieri. Tutti negativi gli altri 366 tamponi analizzati. Da segnalare anche tre nuovi guariti. Insomma, dati eccellenti dopo mesi di criticità che hanno segnato la vita di tutti gli italiani.